Sì, buongiorno. Si sente, sì. Allora, sono Angela Maria Quartulli, funzionario architetto della soprintendenza per la città metropolitana di Bari. A mio franco la collega restauratrice Maria Cristina Tiberini e l'impresa di restauro Felicia Laviora, restauratrice di beni culturali, che sta eseguendo questo intervento in questa chiesa di monopoli settecentesca Sant'Angelo in Borgo, di cui vi parlerò focalizzando l'attenzione su uno degli aspetti affrontati da questo cantiere del Ministero dei Beni Culturali. Allora, la chiesa nasce nell'espansione... La chiesa nasce... Allora, la chiesa viene realizzata nell'espansione quattrocentesca della città di Monopoli, nel colmamento del cosiddetto Borgo Canale, quindi all'esterno della città medievale, e porta con sé, nelle fasi di accrescimento, evolutive, nelle modifiche, tutta una serie di problematiche che hanno nel tempo determinato diverse condizioni di dissesto, di abbandono e conseguentemente di degrado. Quindi abbiamo la prima edificazione che si fa risalire nel XV secolo, c'è una riedificazione con, diciamo, su un livello cittadino più alto rispetto alla primitiva costruzione, nel 1675, con una rotazione della sua configurazione planetrica, un'espansione, per far posto ad una nascente istituzione religiosa, un complesso conventuale, e alla nuova chiesa di San Giuseppe Anna, che sorgerà proprio alle sue spalle, alle spalle attuali, quelle che in tempo erano invece lo slargo su cui affacciava il, diciamo, il precedente prostetto. Subisce nel tempo una serie di arricchimenti formali, con la realizzazione sia dell'apparato decorativo a stucchi, l'altare maggiore, il cappellone laterale, e così nel tempo continua ad avere delle modifiche formali, così come, diciamo, si evolveva anche il gusto del tempo, la volontà del clero che la governava, fino ad arrivare nella prima metà del Novecento, con problematiche di dissesto, probabilmente causate anche da debolezze, come dire, congenite, proprio alla sua stessa costruzione, in quanto nata per successivi ampliamenti, accostamenti di strutture, quindi strutture nate in affiancamento con delle sezioni resistenti inadeguate, quindi già dai primi anni del Novecento, nella prima guerra mondiale, si incominciano a registrare i primi dissesti, dopo la seconda guerra mondiale, Manopoli fu, diciamo, uno dei centri che subì una serie di danneggiamenti, in provincia, questo declino, un declino che l'ha portata ad un abbandono, diciamo, ad arrivare ad interventi urgenti eseguiti dalla soprintendenza, già nei primi anni, questa è la situazione, ecco, nel 2015, interveniamo come soprintendenza, perché il dissesto era andato avanti, la situazione che trovo io come direttore lavori, quindi intervento della soprintendenza, era questa, diffuse manifestazioni biologiche, alterazioni, degrado, perdite, distacchi, rigonfiamenti dell'intonaci, lesioni strutturali, deformazioni strutturali. Da ricerche di archivio in soprintendenza emerge appunto che la Chiesa aveva subito un primo intervento di messa in sicurezza, per rotazione, quindi per ribaltamento della parete laterale non contrastata, sulla strada, negli anni 70. Questo intervento portò avanti, diciamo, tutta una serie di operazioni che oggi escluderemo, perché nel, diciamo, in quella che era l'intervento dell'epoca, quindi il materiale, la conoscenza dei nuovi materiali all'epoca, portarono appunto all'inserimento di diverse strutture cementizie per collegare porzioni murarie, per collegare le murature perimetrali, quindi con la realizzazione di una cappa cementizia che tradizionalmente si realizzava in quegli anni, come elemento di cerchiamento, di contenimento, diciamo, delle pareti laterali. Però anche la, come dire, la poca conoscenza anche del materiale non lo faceva spesso applicare, diciamo, con le regole dell'arte. Quello che nel 2015 abbiamo ritrovato, perché dopo questo intervento del 70, la Chiesa continua a rimanere in abbandono, la copertura non viene, cioè la struttura, le strade ossale, con questa doppia calotta, non viene ricoperta da un manto di protezione, quindi rimane priva di copertura. Questa copertura, quindi, con le infiltrazioni, le deformazioni, le infiltrazioni, aveva perso, diciamo, le sue caratteristiche, tanto poi da determinare tutta una serie di alterazioni all'interno della Chiesa, che già comunque sussistevano, come dicevo, dai primi anni del Novecento. Questa era la situazione all'interno, prima dell'intervento di messa in sicurezza degli anni 70, quindi abbiamo, diciamo, la volta della Chiesa, l'intrarosso della volta decorata con diversi fenomeni di degrado, diverse mancanze, una porzione della volta viene, quindi della decorazione della volta, a causa della deformazione, delle fessurazioni in chiave per il ribaltamento di una parete, viene completamente rimossa per poter operare con delle stilature cementizie e l'inserimento di una serie di incatenamenti. Questa era un confronto, quindi, fra la situazione al 1972 e la situazione al 2015 che ritroviamo, appunto, quando rienterveniamo in sommurgenza e vediamo come, appunto, l'intervento effettuato nel 72 elimina completamente tutta la prima campata, la parte decorativa della prima campata che, infatti, ritroviamo completamente spoglia. Vediamo tutta una serie di alterazioni biologiche, fessurazioni, pistacchi, florescenze, alterazioni cromatiche. Quindi inizia un primo intervento di messa in sicurezza perché l'intervento principale nel 2015 fu un intervento molto esiguo dal punto di vista economico e quindi si è potuto operare solo sulle strutture danneggiate quindi per poi intervenendo, diciamo, semplicemente a contenere eventuali cadute delle porzioni volumetriche che costituivano gli alti e i bassi rilievi in stucco dell'apparato decorativo introdossale. Questa è la parte absidale quindi con il catino, il grande altare, uno dei pochi in Puglia con Baldacchino quindi si vedono le varie manifestazioni di degrado a questo verbo spinto che poi ci ha fatto interrogare in tutta la fase di diagnostica. Questa chiesa dal 2015 rivede un altro intervento solo nel 2021 quindi cinque anni dopo abbondanti questo verde che vedevamo nel 2015 nel 2021 scompare probabilmente anche da aver rimosso perché nel 2015 viene rimossa la calotta cementizia viene sistemata provvisoriamente una copertura in lamiere che ha consentito comunque a tutta la struttura muraria di poter respirare quindi anche di poter asciugare di tutte quelle infiltrazioni che era di cui era piena. Ora, gli obiettivi dell'intervento perché mi concentro diciamo sull'intervento fatto sull'intrarosso quindi sull'apparato decorativo era riuscire a prevenire l'accelerazione del degrado dei materiali costitutivi e di qui è partita tutta una campagna di diagnostica multidisciplinare che ha visto il coinvolgimento dell'Università di Bari dell'Università della Basilicata tecnici ingegneri specialisti in termografia per poi arrivare a fare delle valutazioni critiche sulle varie patologie individuate sulle varie modalità di alterazione che avevano caratterizzato diciamo che hanno caratterizzato la come dire le varie fasi anche evolutive del di abbandono della Chiesa e quindi sulla base di quello il collegamento l'interconnessione fra le varie informazioni la decisione dell'intervento da eseguire sicuramente ecco l'orientamento generale è stato un orientamento di tipo conservativo sulla materia ma c'era un altro problema cioè quello anche dell'aspetto cioè la Chiesa aveva diversi frammentare l'apparato decorativo frammentario quindi grandi lacune l'obiettivo appunto della tutela non è solo conservare la materia ma anche consentire la fruizione ecco che la restituzione della percezione dell'opera che presentava diciamo una serie di stratificazioni messe in luce dalle varie mancanze lacune diffuse puntuali estese ad intere superficie alterazioni dello stato dello stato di finitura nelle varie come dire sovrammissioni ecco che da qui è partito un insieme di analisi rilievi bidimensionali tridimensionali uno studio storico critico sull'edificio perché senza quello senza comprendere l'architettura non si può che intimamente connessa ai suoi parati decorativi non si può valutare in maniera completa un intervento e quindi ricostruzioni anche virtuali per poter controllare l'intervento prima di operare direttamente sul bene perché ogni intervento si sa è sempre un come dire sicuramente non è mai così conservativo se non è stato sondato appurato valutato in precedenza diciamo o su campioni esterni e noi abbiamo utilizzato anche gli strumenti digitali per poter effettuare questo controllo soprattutto su quello che era appunto la restituzione dell'aspetto quindi il problema importante era quello delle lacune che tipo di atteggiamento avere quello creativo c'è ricostitutivo c'è integrativo con il completamento mimetico delle parti mancanti conosciamo le tecnologie dalle analisi petrografiche mineralogiche abbiamo individuato le varie caratteristiche dei materiali utilizzati e quindi anche le loro caratteristiche tecnologiche si poteva anche essere in grado di ricostruire oppure un approccio filologico che lascia diciamo un po' l'opera con tutte le sue mancanze con le stratificazioni e intervenendo diciamo però a colmare quei vuoti che interrompono l'immagine complessiva e che disturbano la fruizione che rendono incomprensibile l'architettura io ci tengo molto a questo concetto cioè qui parliamo di un apparato decorativo intimamente connesso con la storia dell'edificio con la sua le sue caratteristiche spaziali architettoniche quindi non poteva essere tralasciata anche la visione generale dell'edificio e quindi un approccio critico il restauro infatti non può riguardare solo la materia ma anche l'immagine perché solo insieme sono in grado di garantire la fruizione del valore di quell'opera e del suo significato posteri quindi si decide di non ricostruire l'integrità formale materica si cerca una rispondenza delle singole parti con l'architettura complessiva si ricerca un'unità formale cioè la capacità di produrre nel futuro almeno una visione di insieme coerente le fasi di analisi la diagnostica strutturale è importante perché l'apparato decorativo porta in sé le tracce delle deformazioni subite dalla chiesa comprendere le fessurazioni se sono ferme se sono in avanzamento che tipo di distacchi può aver generato una deformazione un abbassamento la rotazione dell'arco la rotazione della pareta per poter intervenire anche in sicurezza a conservare diciamo a mantenere la sicurezza tutti gli elementi in aggetto perché gli elementi in alto rilievo sono numerosi soprattutto nella parte del catino absidale e nella parte centrale della navata mappatura del degrado l'indicazione degli interventi queste fasi di analisi che sono state riportate sulle fotografie che sono appunto partono da tutta una campagna di campionamenti sia per la verifica delle contaminazioni biologiche che hanno portato ad individuare per esempio la concentrazione di alcune patologie in alcune zone piuttosto che in altre informazioni che abbiamo collegato ad altre informazioni di natura compositiva quindi delle malte degli stucchi ma anche in relazione al tipo di degrado statico quindi delle deformazioni che ha subito e quindi la possibilità di subire maggiori infiltrazioni in alcune parti rispetto ad altre o di subire l'irraggiamento in alcune parti rispetto ad altre o diciamo la reazione quindi è stato fatto uno studio generale un po' come dire rispetto alle varie cause esterne che hanno portato a quel degrado e quindi anche le varie analisi diciamo petrografiche mineralogiche e chimiche per individuare composizione e alterazioni e poter intervenire in maniera puntuale diretta e anche contestuale una campagna anche termografica ci ha consentito di valutare lo stato la tenuta anche degli elementi dei manufatti tridimensionali l'adesione al supporto strutturale per poter operare quindi lì dove l'occhio non consente di vedere per poter consegnare un domani la chiesa alla fruzione diciamo in sicurezza e lo studio della lacuna che è stata diciamo un po' attraverso cui abbiamo ritenuto utile utilizzare gli strumenti digitali per poter virtualmente prefigurarci diciamo quelle che potevano essere le scelte di intervento attraverso la fotografia in primis quello che avevamo degli anni 70 il ridisegno diciamo della parte mancante attraverso un rilievo diciamo tradizionale e una ipotesi attraverso diciamo le informazioni ricevute dalle stratigrafie seguite di quelle che sono state le varie fasi cromatiche a partire dalla riedificazione tardoseicentesca fino agli anni 50 70 la situazione che ritrovavamo molto degradata era appunto proprio l'ultima superficie l'ultima l'ultima configurazione come dire cromatica proprio perché presentava delle caratteristiche tecnologiche di scarso rilievo quindi l'inizio dello studio diciamo di come intervenire su queste lacune come intervenire sulle lacune del pigmento lacune dovute ad assenze ma anche alterazioni dovute appunto alla carbonatazione di una serie di fenomeni appunto alterativi che erano diventati si erano come dire fusi con gli strati inferiori quindi queste grandi macchiature la cui emozione è risultata assai difficile infatti vari tentativi con vari tipi di pulitura chimica per valutare come ridurre diciamo queste grandi alterazioni cromatiche e poi l'ipotesi di un intervento attraverso diciamo virtualmente attraverso la macro fotografia utilizzando appunto dei tratteggi in maniera da non eliminare cioè da non intervenire su quello che c'era ma solo sulla lacuna o sullo strato sovrammesso che era impossibile eliminare lo studio sulle lacune quindi quando sono mancanze di decorazioni quando sono perdite complete oppure lì dove ci sono solo delle tracce di decorazione le mancanze o discontinuità cioè l'assenza dell'elemento tridimensionale di cui rimane ancora la traccia o il disegno oppure lì dove si è perso completamente l'abbozzo dell'elemento decorato e quindi come intervenire per far sì che quella lacuna non emergesse rispetto alla decorazione complessiva ma soprattutto alla configurazione architettonica di quella decorazione che caratterizza l'intrarosso dell'aula e che la mette in relazione anche con tutta l'architettura la grande lacuna quindi questa campata e mezzo diciamo nella parte di retrofacciata come colmare questo grande vuoto che poi è il primo spazio della visione cioè entrando nella chiesa la prima percezione è proprio questa grande assenza e quindi questa discontinuità nella prosecuzione dell'invaso spaziale della chiesa che rimane bloccata a livello del cornicione della cornice d'imposta e quindi qui uno studio bidimensionale con un rilievo di quella che può essere una ricostruzione di quella lacuna rifacendosi un po' le raccomandazioni delle carte del restauro quindi la semplificazione la solo la riproposizione degli elementi architettonici quindi delle costolonature della volta semplificate quindi senza intagli la nuda semplicità di cui parlava Camillo Boito l'inviluppo senza ulteriori elementi decorativi che servono per ricostruire la scansione ritmica che si collega alla parte diciamo dell'intradosso quindi la parte della copertura ai piedritti e alla scansione ritmica che abbiamo poi all'interno con la sequenza delle varie cappelle poi è iniziato lo studio del catino absidale questa cosa è stata effettuata attraverso un modello tridimensionale abbiamo avuto difficoltà anche nell'intervenire perché la chiesa è stata piena di puntelli fino diciamo al primo intervento sull'intradosso quindi la rimozione dei puntelli che era finalizzata anche a completare le operazioni in copertura è avvenuta gradualmente il primo ad essere liberato è stato il catino absidale su questo è stato possibile fare un rilievo tridimensionale grazie alla digitarca srl che ha poi uno stand qui fuori e che ha restituito attraverso l'utilizzo di diciamo qui un po' la descrizione della strumentazione usata quindi la 6 scanner 3d associata alla fotogrammetria spinta questa cosa ci consente di avere un modello diciamo dell'elemento decorativo di poterlo misurare di poter avere delle informazioni qualitative tratte dalle fotografie quindi anche dal dettaglio in cui sono state acquisite le informazioni fotografiche abbiamo la possibilità di ricavare delle sezioni ortogonali di ragionare sul concetto diciamo delle stratigrafie quindi del pigmento e quindi a questo punto dovendo rinunciare a mostrare tutti insieme per dare ordine anche per eliminare il degrado perché sotto le prime due superfici decorate si erano c'erano erano in atto sia delle solfatazioni che la diffusione di come dire di patologie di degrado biologico cioè formazioni batteriche che soprattutto nella parte più alta sono state riscontrate mentre la parte più bassa attacchi i fungini che comunque avevano portato al distacco penetrando all'interno delle superfici superiori quindi per poter rimuovere quelle evidentemente bisognava comunque rimuovere l'ultima superficie ormai fra l'altro spellicolata che è quella nocciola che vediamo e quindi abbiamo provato a ricostruire le varie fasi cromatiche a partire dalla prima edizione con i fondi azzurri e gli stucchi bianchi fra l'altro queste fasi cromatiche scoperte attraverso un'analisi puntuale stratigrafica ci ha fatto anche riscontrare la diversa modalità di come dire di presentazione architettonica dell'edificio in funzione anche degli spessori dei colori cioè delle dimensioni degli elementi di incornicimento o di cosolo natura questa è stata una fase intermedia sempre con pittura a calce dove diciamo l'apparato decorativo assumeva appunto questo colore monocromatico la terza fase ottocentesca di cui rimangono tracce però insomma ci hanno consentito di ricostruire la posizione del pigmento l'ultima fase che avevamo trovato ma ormai soprattutto nella parte diciamo dell'intradosso della volta completamente in degrado che è quella che si sta cercando ora di rimuovere in quei piccoli frammenti e quindi attraverso lo strumento quindi attraverso il modello digitale incominciare a studiare le lacune come intervenire l'individuazione delle tipologie di lacune è quello diciamo l'obiettivo che si vuole raggiungere questo per poter controllare prima l'effetto finale piuttosto che farlo diciamo puntualmente una volta che si interviene anche perché intervenendo puntualmente non si ha la visione di insieme lo strumento digitale serve proprio a questo a poter avere diciamo preliminarmente una visione generale e poter valutare la correttezza o meno dell'intervento un piccolo video che fa vedere un po' se parte non so se devo dare non parte si parte di un po' Grazie. 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 Grazie a tutti.